avevate ragione voi ragazzi quando io vi dicevo che le amichevoli contano perché tu dalle amichevoli vedi il livello di preparazione di una squadra e l'abbiamo perse tutte e voi mi dicevate che le amichevoli non contavano niente avevate ragione quando vi dicevo che il trofeo berlusconi trofeo del cazzo che abbiamo vinto ai rigori contro il monza è stato giocato di merda ma voi dicevate che era soltanto un trofeo amichevole avevate ragione quando ho detto che i cinque gol presi dall'inter erano l'inizio di qualcosa che sarebbe andato peggiorando e voi mi dicevate che 5 gol dall'inter servivano per riprenderci servivano per doveva essere lo scossone il segnale avevate ragione quando vi ho detto che vincere 1 a 0 col verona era riduttivo e dicevate che 1 a 0 col verona era un mega risultato avevate ragione quando vi dicevo che la vittoria di genova doveva preoccupare non esaltare nonostante il modo in cui è arrivata e voi mi dicevate che invece la vittoria delle vittorie avevate ragione quando vi ho detto che contro newcastle borussia dortmund quelle partite da come abbiamo giocato andavano non vinte stravinte e voi mi dicevate ma è la champions league ma il newcastle ma il borussia dortmund avevate ragione quando aveva detto che contro il napoli quella partita andava vinta e mi dicevate ma sono i campioni d'italia ma pareggiano a napoli è normale avevate ragione avevate ragione voi ed effettivamente la vostra ragione si è fermata questa sera perché quando all'inizio partita ho detto guardate che stasera udinese i tre punti li fa in live no ma che dici ma non è vero cazzate udinese non ha fatto lì fa se lì fa stasera volete trovare il mianista incazzato il mianista si incazza quando vince 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 poi perde perde si incazza ma poi quando perde 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 non si incazza più stasera il primo tiro un porta è arrivato dopo ben 26 minuti un tiro da fuori area poi dopo cosa succede ci meravigliamo ci meravigliamo se silvestri para una palla sul 45esimo cross sterile da parte di leao un cross più sterile di un uomo di 80 anni senza palle girù colpisce con la spalla ci meravigliamo se il portiere dell'udinese la para ci meravigliamo pure lo so che mi state chiedendo del rigore non rigore il rigore non doveva esserci ma non perché non fosse netto attenzione di uno doveva esserci perché l'udinese in area non ci doveva arrivare quello è il punto se il contatto c'è giocatore si è tuffato si è tuffato ma se c'è il contatto tuffo o non tuffo il rigore va dato e così è stato poi vabbè l'udinese squadra che si giocasse ripeto 38 partiti di campionato contro il mian vorrebbe 85 scudetti sulla maglia ma vabbè vabbè rigore rigore sono una piccola parte del tutto che comunque è stata determinante ma vogliamo arrivare al sodo vogliamo arrivare al clou della situazione arriviamo al clou della situazione squadra che è arrivata a milano per pareggiare e ha vinto già quello deve essere un segnale grosso così cazzo una squadra che arriva ma non vi vergognate una squadra che arriva in casa tua per pareggiare che se al romantesimo fossero stati 0 a 0 avrebbero giocato allo stesso modo chiudersi dietro figurati se stanno vincendo quanto si chiudono e adesso voglio farvi anche un calcolo perché è un calcolo che vi voglio mettere davanti a voi e a chi continua a difendere pioli Borussia Dortmund Lazio Genoa poi chi c'è stato dopo il Genoa? la Juventus il PSG il Napoli e l'Udinese sette partite sei senza fare gol nel primo tempo e quattro senza fare gol dato quattro gol fatti tre, quattro, cinque, sei subiti anzi cinque, cinque gol fatti e sei subiti devo dire che è uno score anzi non di più perché abbiamo preso uno della Juve tre dal PSG sono quattro Unese cinque Napoli sette sette gol subiti è un dato di cui bisogna sicuramente andare fieri perché evidentemente non vogliamo solo essere ridicolizzati dagli altri che a casa mia contano meno di zero vogliamo essere ridicolizzati da noi stessi perché io a questo punto l'ho spiegato anche in live ho detto ma noi ci siamo tanto meravigliati no? l'ho detto anche io cazzo Milan vince 2-0 a Napoli come fa a farsi rimontare? ma dopo stasera mi viene la domanda ma come ha fatto il Napoli andare sotto 2-0 con il Milan? come ha fatto? no perché è lecitissima la domanda cioè come ha fatto il Napoli? problema è che quando devo fare questi video le azioni post partita in cui sono apatico caso di vittoria pareggio sconfitta sono apatico mi vengono a dire le solite cose perché le solite cose mi vengono a dire i cross sterili il possesso palla sterile il Milan che quando entra in linea di rigore non ci capisce un cazzo però finché quello non si concretizza l'unica cosa di cui noi possiamo parlare in questi video sono i risultati poi attenzione a me il gioco di Pioli non è mai non è mai piaciuto ma mai già quando eravamo la Lazio la Fiorentina il Bologna il gioco di Pioli non mi è mai piaciuto però il Milan finché portava risultati beh venga alle Juventini non mi è mai piaciuto il gioco di Allegri però 5 scudetti 2 finali di Champions League da qualche parte li ha portati no? il problema è che quando non funziona più diventa il doppio più frustrante perché è quello che è il problema detto questo mi dispiace che voi non non abbiate incontrato il Mianista incazzato che di solito incontrate fateci vincere 5-6 partite poi fatecene perdere altre 3-4 e forse lo ritroverete da dire tutto bene così bene non vincere così non diamo modo ai difensori di Pioli di poter parlare e alla prossima per grandi sbellicanti avventure